Telnet Systems, vendita, installazione e manutenzione di centralini telefonici, fibre ottiche, videosorveglianza, sicurezza di rete e networking. Richiedi subito un preventivo. Telnet Systems, via Tazzo Nevolari 53, Carraia, Lucca. Telefono 0583 98 33 22, www.telnetsystems.it Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS In questa puntata, RISO CONTO Highlights Top 10 Rally Elba Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti. Il faltellinese Andrea Bergo ha nuovamente messo la sua firma nell'albo d'oro dei rally Elba, secondo atto del challenge di sesta zona e valido anche per l'open rally toscano. In coppia con il livornese Andrea Floris ha vinto la seconda edizione del nuovo corso della gara, missando il successo dello scorso anno, utilizzando una vettura diversa, una Mitsubishi Lancer Evo 9 Gruppo N firmata da Silvio Terrosi. Il light motive della gara, apprettita nel terzo pomeriggio di sabato e conclusa domenica all'ora di pranzo, è stato lo stesso dell'edizione 2012, con Bergo che ha attaccato in concreto sin dal primo impegno cronometrato per poi allungare sulla concorrenza. Il pilota di Tirano, ex campione italiano produzione, innamorato dell'isola d'Elba, ha ritrovato dopo alcune stagioni la nona versione della berlina della casa giapponese dei tre diamanti, per la quale ha adottato per la prima volta gli pneumatici coreani Hankook, un mix estremamente redditizio, dato che ha siglato il migliore riscontro cronometrico in tutte e sei le PS disputate. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Top 10 Grazie a tutti. peraltro dotata delle nuove omologazioni con la complangiatura del turbo e soprattutto con gomme mai usate, rivelatasi decisamente competitive. Tutte andate al meglio, sono davvero esaltato. Grande gara, grande pubblico! Grazie a tutti! 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 I fratelli David e Daniel Giacomelli al dio su una Renault Clio Supermive 6, per loro quarti in classifica sino all'ultima prova, affrontata forse con troppo zelo, con il finale in cui hanno sofferto l'iniziativa sia di Bettini che di Volpi. Grazie a tutti. 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 Affrontiamo adesso la prima prova speciale denominata due colli con Giuseppe e Stefania Romano a bordo della Renault Clio Williams con la quale si sono classificati undicesimi assoluti. Grazie a tutti. Quattro, tre, due, uno. Vai. Destra. Destra, tre, meno lungo, corta, sale, verdi. Accendo sinistro al cartello, stacca per sinistra, tre, due volte. Sinistra, tre, due volte. L'ingresso principale. L'ingresso principale. Sinistra, cinque. In destra, cinque. Sinistra, cinque. Destra, cinque. In destra, cinque. Accendo sinistro per sinistra, tre. Apre. In destra, quattro. Destra, quattro. In destra, tre, più lunga. Destra, quattro, destra, tre, più. In sinistra, tre, sta in largo. In destra, tre, più, più lunga. Destra, tre, più, più, lunga. Accendo destro. subito sinistra 3 più più, accenno destro, subito sinistra 3 più più, sinistra 3 più più, in destra 3 meno meno, stacca per sinistra 3 meno lunga, sinistra 3 meno lunga, destra 4, 20, in sinistra 3, destra 4, sinistra 3, subito destra 3, sinistra 3, subito destra 3, apre, in accenno sinistro, accenno sinistro, stacca per sinistra 3 meno, sinistra 3 meno, subito destra 3, Sinistra 3 meno Subito destra 3 Subito sinistra 4 Destra 3 Subito sinistra 4 Destra 3 Sinistra 4 Apre 50 Accendo destro Stacca per destra 2 Destra 2 Destra 2 Apre 30 Di sinistra 5 due volte Sinistra 5 due volte Subito destra 5 lunga Destra 5 lunga In destra 3 Subito a sinistra 4 Destra 3 subito sinistra a 4 destra a 3, subito sinistra a 4 accenno destro in sinistra a 3, sinistra a 3 subito destra a 3, meno sinistra a 3, destra a 3, meno accenno sinistro subito sinistra a 3, stai stretto sinistra a 3, stai stretto apre in 50, taglia tutto 50, taglia tutto in sinistra a 4, subito destra a 3 sinistra a 4, subito destra a 3 sinistra a 4, subito destra a 3 subito sinistra a 3 destra 3, subito sinistra 3 ecco la sinistra corda assai largo in destra 3, due volte, scollo, scende scende in 50 accenno sinistro, lungo accenno destro accenno destro taglia accenno sinistro in destra 3, corda in sinistra 3, stacca, subito destra 3, lunga sinistra 3, stacca, subito destra 3, lunga 50 taglia accenno sinistro, in sinistra 3 subito destra 5, sinistra 3, subito destra 5 30 in sinistra 3 più sinistra 3 più, in destra 3, attento, sconnetto sinistra 3, destra 3 destra 3 sinistra 3, sconnetto, subito destra 4 apre, taglia accenno per 70 metri destra 4 accenno per 70 metri sinistra 3 più più, sinistra 3 più più in destra 5, stacca per destra 3 meno destra, sinistra 5, stacca per destra 3, meno, destra 3, meno, subito sinistra 3, meno, meno, chiude, chiude, sinistra 3, chiude, in centro, taglia accenni, al re, in destra 4, al re, in destra 4, apre 30, in sinistra 3, sinistra 3, in destra 5, taglia, accenno sinistro, in destra 3, subito sinistra 3, taglia, destra 3, subito sinistra 3 taglia accendo destro accendo destro ancora taglia accendo sinistro per destra 4 in fondo accendo sinistro 50 sinistra 2 in destra 2 più subito sinistra 2 chiude destra 2 più, subito sinistra 2 chiude 80 in destra 4 lunga stacca per sinistra 3 più destra 4 lunga per sinistra 3 in stacca sul ponte ecco la sinistra in stacca la 4 vai, destra 4 taglia a sporto ricordati la palla alla rotonda ingresso, destra o sinistra accendo sinistro lungo per 50 in sinistra 3 lunga sinistra 3 lunga in destra 3 meno sul ponte sconnesso destra 3 meno al palo al muro stacca sinistra 2 al muro stacca sinistra 2 sinistra 2 eccola stretto 200 al palo accendo destro sale 200 al palo accendo destro sale subito sinistra 3 apre stai largo subito destra 2 meno dello stretto muro esterno sinistra 2 muro esterno in sinistra 3 sporca sul dosso in sinistra 3 sporca sul dosso in destra 4 destra 4 stacca per sinistra 3 sul dosso sinistra 3 sul dosso scende in destra 3 in sinistra 2 sale in destra 3 muro esterno in destra 3 muro esterno in sinistra destra 3 vai camera caro Piero Iba e Francesco dell'Ea ci accompagnano sulle mitiche strade del volterraio affrontandolo di notte super sinistra 4 super destra 3 questo è un 3 in sinistra 4 in destra 4 in sinistra 4 di nuovo in attento destra 3 gira poco in sinistra 3 apre 200 a vista vai falla salire bravo super destra 3 apre lunga al cartello 3 apre lunga sinistra 3 gira 3 gira destra 3 gira più 3 gira più sinistra 3 sinistra 3 lunga lunga 2 volte gira 2 volte bravo destra 3 diventa 2 stai largo destra 3 diventa 2 50 destri sinistra 3 accenna destro destra 3 chiude per sinistra 3 lunga e gira 3 lunga e gira destra 3 chiude sinistra 3 destra 3 chiude sinistra 3 gira e chiude dopo gira e chiude dopo destra 3 subito destra 3 su ponte gira e chiude gira e chiude tornante sinistro sale bravo destra 3 sinistra 3 due volte chiude la seconda due volte chiude la seconda destra 4 destra 4 e sinistra 3 subito tornante destro chiude subito tornante destro chiude sinistra 3 tieni 3 tieni destra 3 apre destra 4 suddosso 4 suddosso accendo accendo destro stai per destra 3 stai destra 3 stai qui sinistra 3 stai destra 3 sinistra 3 meno stai 3 meno stai accendo destro sinistra 3 più subito destra 4 apre dopodosso sinistra 3 chiude 3 chiude accendo destro 300 attento qui destra 4 lunga e dopodosso diventa 2 chiude 4 lunga dopodosso diventa 2 chiude bravo va bene in sicurezza bravo accendo sinistro accendo destro lungo sinistra 4 20 sinistra 4 meno 300 4 meno 300 attento all'albero destra 3 gira e chiude 3 gira e chiude sinistra 3 chiude super sinistra 3 chiude destra 3 sinistra 2 chiude 3 subito sinistra 2 chiude 20 destra 3 gira destra 3 gira tornante sinistro tornante sinistro 20 sinistra 3 gira subito destra 3 chiude 3 chiude 3 chiude di nuovo sinistra 3 tieni per destra 3 tieni ora ritmo ora ritmo destra 3 tieni sinistra 3 gira apre accendo destro sinistra 3 gira e stai 3 gira stai attento destra 2 chiude destra 2 chiude sinistra 3 gira destra 4 la prossima settimana ha il suo punto completo di tutte le classi sinistra 4 apre bravo Piero sei andato bene destra 2 chiude su ponte 2 chiude su ponte sinistra 5 chiude www.telnetsystems.it www.telnetsystems.it